è stato condannato a quattro mesi per omicidio colposo christian scaravelli papà del piccolo marco il bimbo morto in un incidente in minimoto nell'estate 2016 dopo più di sei anni scaravelli oggi padre di una bambina nata dopo la morte del figlio è stato condannato per omicidio colposo il giorno della tragedia l'uomo aveva accompagnato il figlio marco di soli sei anni nel circuito di motocross il bimbo secondo quanto si apprende doveva effettuare la seconda lezione in pista nel momento in cui il bambino doveva ripartire il padre invece che spingere la moto avrebbe solo tirato la cordicella provocando così un'accelerazione improvvisa del mezzo il bambino è caduto finendo sulla piantana in ferro del cancello dove ha battuto la testa ed è poi purtroppo deceduto per via delle gravi ferite riportate